Donne abusate fisicamente e psicologicamente, donne vittime di violenza tra le mura domestiche, dignità carpestate, donne che restano in silenzio, donne che continuano a tenersi offese, calci, pugni, donne che subiscono le prepotenze e le violenze dai mariti, dai compagni, dai fidanzati, donne che si sentono dire Si chiama Non sei sola, la campagna di denuncia promossa dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Avigliano affinché ogni donna vittima di violenza, di qualsiasi forma essa sia, sappia che uscirne è possibile e soprattutto di non essere sola, ma di potersi affidare per combatterla ad una vasta rete di protezione che passa per associazioni, forze politiche e dell'ordine, istituzioni scolastiche e territoriali Tu, proprio tu, lo sappiamo che non puoi uscire da casa, lo sappiamo che non puoi andare a fare una passeggiata né da sola né con le amiche, lo sappiamo che non puoi andare neanche in piazza Emanuele Gianturco Neanche qui, nella piazzetta di San Nicola Nemmeno qui, in piazza 16 Dicembre Neanche qui, a Possidente, in piazza Troisi Neanche qui, a Lago Pesole, al corso Federico II E questo perché? Lui non vuole Un video realizzato dal videografo Antonio Di Franco con fotografie di Maria D'Andrea e musiche di Donatino Ceraldi che passa in rassegna agli stereotipi che troppo spesso alimentano una cultura maschilista e patriarcale e mette a nudo le condotte tipiche di violenza per dare alle vittime l'opportunità di riconoscerle e trovare il coraggio di uscire da quel vortice rompendo il velo del silenzio e facendo arrivare al contempo un chiaro messaggio Non sei sola C'è il comando stazione Carabinieri a Davigliano e a Lago Pesole Ricorda Esiste il numero antiviolenza e antistalking 15 22 15 22 You deserve respect Grazie a tutti